Blitz della polizia nella redazione della più grande testata giornalistica bielorussa Tutbai. Decine di agenti hanno perquisito la sede, bloccato il sito web che ora è offline. Il Ministero dell'Informazione ha confermato il blocco affermando che la causa del provvedimento è la pubblicazione sul sito di materiale di un fondo di solidarietà non registrato. Perquisite anche le abitazioni della direttrice Marina Zolotova e di alcuni giornalisti. A dicembre il Tribunale di Minsk aveva revocato la licenza editoriale al portale di informazione indipendente in lingua russa, punto di riferimento anche per i media internazionali per seguire le proteste di piazza contro il presidente Aleksandr Lukashenko. Il sito, fondato vent'anni fa nella capitale della Bielorussia, conta circa 3 milioni di visualizzazioni al giorno. Il blitz arriva dopo che il presidente ha firmato un decreto che attribuisce maggiori poteri alla polizia. Grazie.